A breve il progetto di rifacimento della gelateria Punta Lido sarà sottoposto alla verifica da parte della coalizione di maggioranza. La decisione è stata presa dal partito autonomista Trentino nella riunione del direttivo di giovedì sera che si è concentrata soprattutto sulle polemiche scoppiate in questi giorni riguardo al progetto di demolizione e ricostruzione della storica gelateria situata sul Lungolago. Molti rivani hanno manifestato il loro disappunto durante la manifestazione di protesta di sabato scorso per dire no alla demolizione e soprattutto alla ricostruzione dell'edificio secondo quanto progettato dall'architetto Alberto Cecchetto. Tra i rivani più polemici l'ex sindaco e senatore Claudio Molinari, l'avvocato Renato Ballardini, l'ex sindaco Paolo Matteotti, la consigliera comunale del PD Silvia Betta. Non possiamo non prendere in considerazione tutte queste voci, spiega il consigliere provinciale Luca Giuliani. Per questo motivo c'è bisogno di un confronto fra le forze della coalizione per analizzare il progetto e capire se va bene, se è ancora attuale oppure se ha bisogno di una rivisitazione e se c'è qualcosa da sistemare o modificare. Nel frattempo si attende intervento del presidente della comunità di Valle Mauro Malferre, previsto per lunedì. Tra gli argomenti discussi è emersa anche la questione ex Miralago. Il direttivo del PAT in una mozione chiede alla provincia di destinare al comune, gratuitamente, la proprietà dell'immobile. La mozione non impegna finanziariamente il comune, spiega il consigliere Giuliani, pertanto non vincola l'amministrazione ma la sollecita a trovare un accordo con la provincia per evitare che la Miralago permanga in uno stato di abbandono per altri anni. È chiaro poi che il futuro della Miralago va pensato in maniera contigua a quello dell'ex Cattoi ed è per questo che l'amministrazione dovrebbe cominciare a dialogare con la nuova proprietà, conclude Giuliani.